La gaffe di Aurora all'indirizzo di Santiago ha provocato un vero e proprio sconvolgimento sul web, talia che la stessa figlia di Eros è stata costretta a scendere in campo per fare le sue scuse a Belen. A intervenire in questa questione ha lo scopo di sedare gli animi e a Eros Ramazzotti che annuncia in un post pubblicato su Instagram, di aver ripreso sua figlia che sarebbe distrutta per quanto accaduto. «Ragazzi, Auli ha commesso un'ingenuità di cui si è pentita amaramente. Io e la madre l'abbiamo ripresa pesantemente ed anche lei è distrutta da questo accaduto. Può capitare a tutti di sbagliare e di fare un passo indietro scusandosi, lei lo ha fatto ed ora mi sembra il caso di chiudere l'argomento altrimenti non si finisce più. Grazie! Un bacino a Santiago che è bellissimo! Eros non è il primo a intervenire sulla questione. Già la stessa Aurora si era scusata con Belen pubblicamente, ammettendo di aver commesso una leggerezza ma che le sue intenzioni non sarebbero mai state cattive, non in riferimento a un bambino che ha l'età dei suoi fratelli. Sara Daniele, amica di Aurora, ha invitato il popolo del web a ridimensionare la questione, definendo esagerati alcuni attacchi espressi all'indirizzo della giovane. Eros è l'ultimo a prendere la parola sull'argomento e lo fa con una certa autorevolezza ma senza ledere o attaccare nessuno. Da padre, si è limitato a ridarguire sua figlia per la sua leggerezza ma ha anche rivendicato il comportamento irreprensibile di Aurora che, resasi conto dell'errore, si è affettata a scusarsi e a fare un passo indietro, mostrando grossa maturità dopo l'involontaria gaffe. Nessuna parola arriva, invece, da Michelle Hunziker, madre di Aurora. Approdata su Instagram da solo qualche giorno, ha preferito non aggiungere dell'altro imbarazzo alla sua primogenita lasciando che fosse Eros a parlare anche al suo posto. Chi se ne frega.